Il Comune di Agropoli, insieme ad altri 50 comuni italiani, parteciperà quest'anno alla terza edizione di RAEE Chiocciola Scuola, un progetto nazionale di comunicazione ed educazione ambientale volto a insegnare agli studenti delle scuole primarie come gestire e smaltire correttamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I ragazzi delle classi quarte e quinte elementari saranno protagonisti di un programma che unirà alle attività di informazione, anche una vera e propria attività di raccolta dalle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle scuole, realizzata con il supporto operativo dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dal Centro di Coordinamento RAEE, avrà una durata di tre settimane. L'avvio della campagna di sensibilizzazione, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Comune di Agropoli, sarà annunciato ufficialmente in una conferenza stampa in programma lunedì 14 gennaio 2015, alle ore 11, presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli. Interverranno il Sindaco di Agropoli, l'Avvocato Francesco Alfieri, l'Assessore per l'Identità Culturale, Franco Crispino, l'Assessore alle Politiche di Sviluppo Sostenibile e Servizi Ambientali, Massimo Laporta e la Coordinatrice Nazionale del Progetto RAEE Chioccio la Scuola di Diana Solari.